È possibile che un grande vino possa costare poco più di 15 euro? Intendiamoci, 15 euro non sono pochissimi, ma un grande vino è un grande vino. Ci riesce Marziano Abona, che è un produttore della zona di Dogliani. Dogliani è appena a sud del Barolo, fondamentalmente, quindi è una zona ancora di Langa, però è fuori dal grande comprensorio del Barolo e non si fa nebbiolo, che è l'uva del Barolo, ma si fa dolcetto e Dogliani è la Rolls-Royce del dolcetto. È una denominazione di origine controllata e garantita e questo è il Papacelso 2017 di Marziano Abona. Un vino fatto con uve dolcetto, che sono ricche di colore, senza legno, con grande attenzione, perché Marziano Abona è un ottimo enologo e un ottimo vinificatore, e questo è il suo dolcetto del 2017, dedicato a Papacelso. È un vino che ha un colore sicuramente molto bluastro addirittura, molto carico, se lo vedete sul muro è veramente molto intenso. I profumi sono i profumi di amarena, di ciliegia, anche di frutti di bosco, sa un po' di mora tanto per intenderci. Il sapore è il sapore di un grande vino, è il sapore di un vino complesso, completo, in bocca, una leggera nota tannica, che è tipica anche di questa tipologia di vini, ed è un vino che dura tanto in bocca, grande con i bolliti, grande con le carni alla braccia. Grazie a tutti.